Hello, ciao ragazzi! Allora, sembro unta bisunta, in realtà ho fatto la skin care, solo che sono particolarmente glow, non lo so. Beh, in realtà è perfetta questa base per il make-up che andiamo a realizzare oggi, ovvero il Fairy Plum Make-up Look, che ha lanciato la nostra Hailey. È assurdo come lei faccia una cosa e poi automaticamente, sbam, diventa un trend. E ovviamente chi siamo noi per non andare a replicarlo. Inizio con la base che deve essere super glow, appunto. Lei, vabbè, lo sapete, però questo fondotinta secondo me è un po' scuro, quindi vado con il correttore un po' più chiaro a sistemare la colorazione. Lei ormai, lo sanno tutti, è ossessionata praticamente da questa skin care che deve sempre, assolutamente, essere bella luminosa, così da andare poi a creare una base, appunto, che automaticamente lo sia anche lei. Spero che sia giusto il colore, non lo so, sto andando un po' a sentimento. Sì, dai, va bene. Comunque assurdo come mia mamma sia stata qua e mi abbia incasinato completamente tutta la mia make-up collection e non trovo più assolutamente niente. Questo make-up, per quanto riguarda gli occhi, è sull'etronalità del lilla, se non sbaglio, comunque fucsia rosa. E secondo me con i miei colori non sta benissimo a livello di armocromia. Forse sta meglio sulle bionde, non lo so, penso, però vediamo. Per quanto riguarda la base, vaso, 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 vado comunque spelita perché sapete che ormai bene o male è quella. Voglio provare questo blush liquido che si chiama Dolce Vita di Nars. Mi ha sentito parlare benissimo, beh, il colore mi sembra meraviglioso. Ah, è super liquido, si sfuma benissimo. Il colore è effettivamente meraviglioso. Ma vabbè, ragazzi, è incredibile. Ma la bellezza. Ma vabbè, è stupendo. Ha una luce, tra l'altro, bellissima, ma rimane comunque naturale. Nuovo blush preferito sbloccato, penso. Sistemo la base dopo perché passo agli occhi e voglio applicare su tutta la palpebra questo, che è perfetto, secondo me, per questo look qua. Ed è di questa palette di MAC, che era un'edizione limitata, sì. Però in generale, secondo me, potete trovare un qualcosa di simile, soprattutto ad esempio nelle palette di Oude, eccetera, perché ricordo che, insomma, ce ne sono. Che bello, ha un sacco di riflessi. Ne vado a mettere ancora un po' qua. Ve lo mostro meglio. Stupendo. Mi sento un po' ispirata e vorrei andare con questa matita verdone a disegnare una specie di eyeliner. Sì, io comunque vado a sfumarla leggermente verso l'esterno, perché anche se l'eyeliner non è presente in questo look, in realtà vedo che lei molto spesso va, appunto, utilizzare un ombretto per allungare un pochino l'occhio. Bello, mi piace anche come si sposa con il viola. Bello. E adesso vorrei andare con questa paletta a prendere questo rosa, è di Fenty, e lo metto leggermente proprio solo al centro. Fa quasi un effetto bagnato, perché vedo che in tante, quando propongono questo make-up, avendo un po' guardato anche quelli che hanno fatto già altre ragazze, vanno ad applicare gloss sulla palpebra, ma dovendo uscire e avendo già sperimentato il gloss sulla palpebra, so che non è proprio un'ottima idea, quindi diciamo che secondo me è meglio utilizzare un ombretto del genere. Riprendo con la base, vado ad illuminare con il correttore un pochino più chiaro, giusto qua, la zona delle occhiaie, e vado adesso a fissare con la cipria. Da quando ho scoperto comunque questa tecnica qua, con queste spugnette, mi rendo conto di quanto sia fondamentale opacizzare bene la zona T, la zona comunque delle occhiaie, perché va proprio a cambiare il look, che è un gioco di luci, poi se si vanno ad illuminare magari le zone delle guance o dello zigomo, che è proprio dei giochi di luce che secondo me sono stupelli. Il blush è fondamentale in questo look, e voglio prendere questo più rosato, anziché quello fucsia, e vado ad abbondare. In realtà è una cosa che faccio a prescindere in tutti i miei look, perché amo il blush, ma qua posso proprio andare in modo coraggioso, diciamo. Illuminante riprendo questo, sempre per questo effetto bagnato, che effettivamente secondo me è proprio bello. Sono praticamente un glitter unico, perché ho utilizzato a parte la cipria tutti i prodotti che hanno comunque glitter, però insomma diciamo che il risultato per adesso mi piace. Sto andando abbastanza a spedita perché sono un pochino in ritardo. Ora con un eyeliner super sottile vado giusto qua a tracciare una linea, in questo modo, e allungo leggermente anche verso l'esterno. va rimanendo sempre super leggera. Mi sta piacendo. Adesso andiamo con tanto mascara, ovviamente. Comunque vi do un piccolo spoiler, anche perché quando pubblicherò questo video, secondo me sarò già partita. Sto per andare ad Abu Dhabi con mia mamma per il suo compleanno, ed è il primo viaggio che facciamo io e lei così lontano da casa. Sono super emozionata, andiamo per il suo compleanno. In realtà volevo farle una sorpresa, ma è praticamente impossibile perché lei sa tutti i miei spostamenti e poi per prenotare ho dovuto avere la certezza che lei insomma ci fosse, non avesse cose di lavoro e tutto. però è super emozionata e sono così felice di portarla al caldo e di spendere insomma questi cinque giorni, mi sembra. Solamente io e lei. Anche perché poi nei prossimi mesi sarò super presa, tra l'altro a febbraio torno in una delle mie città preferite al mondo. Potete secondo me indovinare quale, un po' distante dall'Italia. Abbra super naturali. Utilizzo questa matita in my birthday suit di Mulac, che è questo rosino super nude. Molto bella, anche se io non sono fan dei rosa, questa sinceramente mi piace molto. e vado poi con questo di MAC stupendo, tutto glitterato, quindi perfetto per questo look. Zoom per farvi vedere meglio. Ultima cosa che vado a fare con questo bianco, che in realtà è per le scienze, illumino solamente qui sotto. Per dare un tocco di luminosità. Voilà, questo qua era la mia versione del Fairy Plum Makeup Look. Fatemi sapere cosa ne pensate. Scappo. Alla fine non sono nemmeno troppo in ritardo, per fortuna. Fatemi sapere altri trend che volete che io ricrei. E in generale, se volete anche che rispondo ad alcune domande nello specifico, mentre faccio un glam, lasciatemele qua, così poi faccio la risposta al commento con un video. Vi mando un bacio. Ciao.